Delicata trasferta per la Giorgio Tesigruppe che è reduce da due sconfitte consecutive, domani con diretta su TVL a partire dalle 18 andrà a far visita all'ambiziosa caserta, ancora ferma a quota zero nella casella delle vittorie. I campani che hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni, stavolta il possibile forfè riguarda la guardia Michele Vitali, sono sotto pressione perché l'ambiente è deluso e la tifoseria è una delle più calde d'Italia in subbuglio. Proprio per questo per i biancorossi sarà importante partire con il piede giusto, arginando il probabile furore dei padroni di casa nei minuti iniziali e magari approfittando della eventuale troppa frenesia della Juve per far girare il match dalla propria parte. Coach Moretti tra l'altro potrà disporre nuovamente del play Langston Loll, a rientro dall'infortunio che l'aveva costretto a saltare la gara con Cremona. Sentiamo Daniele Magro, ospite del settimanale derby a cura di Pietro Pisaneschi. Mi ha un po' sorpreso il fatto che non abbia ancora raggiunto un risultato positivo, infatti per questo bisogna stare molto attenti, quando una squadra si torna in situazioni del genere diventano ostico, soprattutto quando va in casa loro. Si va al Palamaggio che è un ambiente tosto e pericoloso perché sono veramente carichi lì, soprattutto per quello che hanno avuto in passato, la storia del Palamaggio, come è stato costruito, lo scudetto che c'è stato molto tempo fa, però lo ricordano sempre, come è giusto che sia. E poi il pubblico là, sono quei posti in cui se gli dai una falange ti prendono tutto il braccio perché sono aggressivi e appena ti fanno un piccolo break contro ti esaltano la Juve, la Juve-Caserta e stopparli è molto difficile, bisogna stare attento anche sotto questo punto di vista a giocare lì. C'è da dire che non sono gli americani, sono anche gli italiani che non sono mica male, c'è Michelori in centro che è sempre un bel giocatore da affrontare, perché tecnicamente è veramente molto molto bravo, c'è l'esperienza, poi c'è Mordente che insomma anche lui ne ha pacchi, non bisogna sottovalutare nulla, non è una trasferta facile per nulla. Grazie